Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla vicenda gestione campo sportivo Vincenzo Polesti. Di quanto accaduto nelle ultime ore con la mozione presentata dal consigliere comunale di Forza Italia, Salvatore Scerra, ed approvata dalla stessa sese civica, sta scatenando un polverone. Alcuni, così come ha riferito nei giorni scorsi, non ci stanno. E il giardacalcio, la cui società avrebbe dovuto gestire l'impianto di contrada Giardinelli, oggi attraverso un corposo comunicato è pronto a non iscriversi al torneo di Serie D. Un incontro con la giunta comunale previsto per domani. Il giorno dopo un consiglio di amministrazione per fare il punto su quanto sta accadendo. In due giorni, in 48 ore, si dovrà decidere se continuare a partecipare con gioia al prestigioso campionato nazionale di Serie D, che con tanti sacrifici e la passione di migliaia di tifosi gelesi abbiamo appena conquistato. Parole che lasciano il segno. Un vero e proprio tsunami all'orizzonte che in un solo attimo potrebbe cancellare tutto. In casa, a giardacalcio, quanto si è verificato nelle ultime ore, ha assunto la connotazione di un pugno in faccia. La vicenda è quella legata alla gestione dello stadio Vincenzo Presti di contrada Giardinelli. La mozione, presentata dal consigliere comunale di Forza Italia, Salvatore Scerra, è votata dall'assise civica. Ad alcuni non è affatto piaciuta. Una vera e propria levata di scudi alla sua idea che l'impianto sportivo possa essere affidato alla maggiore espressione calcistica presente in città e che consentirebbe al Gela di programmare in tempo la polizia, le manutenzioni e le varie migliorie di cui lo stadio ha bisogno da qualche decennio con il solo scopo di poter affrontare meglio la logistica del club più rappresentativo della città e del territorio. È davvero triste e perfino imbarazzante dover assistere ogni volta al teatrino squallido offerto da chi crede che il calcio sia il male assoluto e che per questa ragione vada combattuto con ogni mezzo una visione tribale degna dell'era delle palafitte, si legge in una nota diramata dal club biancazzurro. La storia, la tradizione, le passioni e i sentimenti di migliaia di sportivi gelesi vengono puntualmente umiliati non da un gruppo di scaricatori di porto ma da alcuni consiglieri comunali in solido con un manipolo di associazioni sportive. Il Gela, che per bravura, fortuna, testardaggine, coraggio e inconscienza, sicuramente con tanti sacrifici da alcuni decenni sta portando avanti un'idea di calcio e il nome della città con una passione condivisa con migliaia di persone di Gela e non solo che giustamente reclamano da molti anni uno stadio migliore, più sicuro, più confortevole con più servizi e soprattutto più pulito ed efficiente. Tutte cose che una gestione privata dello stadio potrebbe assicurare e che per vari motivi la gestione pubblica non ha mai saputo assicurare. Vogliamo solamente consentire ai nostri tifosi, dice ancora la nota, di vivere lo spettacolo offerto dalla squadra della propria città, il Gela, nel modo più sereno e sicuro possibile come avviene in tutto il mondo. Mentre qui a Gela tutto è più complicato. La mission del Gela è profondamente diversa da quella di una qualunque associazione o società sportiva minore. Non ci teniamo proprio a fare e subire la guerra in casa da chi ha il solo interesse a scimmiottare una scuola di calcio con il solo obiettivo di incassare la retta mensile dai genitori di tanti ragazzi con la sfacciataggine di volerlo fare anche attraverso l'uso di strutture pubbliche. Questo sì che è sicuramente illegale. In nessuna parte del mondo civile si permette ad una società sportiva di usufruire di una struttura pubblica per fare una scuola calcio a pagamento. Per chi ha Gela questo è permesso, si chiede la società preseduta ad Angelo Tuccio. Cosa centrano le associazioni con il Presti? Vogliono fare una grande scuola calcio con una grande retta mensile? Non si era mai visto un tale livore, solo per impedire alla squadra che regge il peso e la responsabilità di rappresentare l'intera comunità nel mondo del calcio, di potersi sviluppare e diventare più forte. Il Gela sta crescendo di categoria di forze e di prestigio e questo dà molto fastidio. È sempre stato così. Nella recente passato questa guerra fraticida ha determinato perfino dolorose rinunce. Sono i carabinieri di Gela che indagano sull'attentato incendiario commesso la notte scorsa intorno alle 3.30 in Piazza Trento. Mani sconosciute hanno dato alle fiamme la Fiat Panda dell'avvocato Giovanna Miceli già assessore comunale nella giunta Crocetta. Sul posto è stato ritrovato un bidoncino di plastica contenente tracce di liquido infiammabile. Tracce di benzina sono state rinvenute anche sulla Fiat 500 della figlia della vittima Evita Lorefice, praticante in uno studio legale e collaboratrice del quotidiano di Gela. Anche la macchina della giovane era parcheggiata in Piazza Trento e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presieduto da Ignazio Emmolo ha presa la notizia del duplice fileatto intimidatorio perpetrato ai danni delle stimate colleghe Giovanna Miceli e Evita Lorefice nell'esprimere totale solidarietà e vicinanza condanna fermamente il violento e barbaro atto e auspica che le forze dell'Ordine e la Procura della Repubblica individuino al più presto gli autori e li assicurino alla giustizia. Prima di lanciare accusi a destra e a manca ed in particolar modo alla povera gente un'amministrazione seria dovrebbe interrogarsi sulle cause che hanno scatenato certe forme di protesta. Definire come atto mafioso una forma di ribellione che per quanto grave rimane pur sempre un sintomo di malessere e disperazione appare come un tentativo di non volersi assumere le proprie responsabilità mostrandosi in tal modo assolutamente incapaci di affrontare l'importante e delicata questione nei giusti termini. E' il pensiero di Lucio Greco di un'altra Gela in merito a quanto accaduto sabato scorso in via Rio de Janeiro e via l'Indipendenza e da riferimento e a rifiuti sparsi in strada da mani ignote e su cui i carabinieri della reparto territoriale come dicevamo ieri hanno aperto un'indagine. Arrivare poi a mettere in dubbio così come ha fatto il vice sindaco Simone Siciliano in un suo post che scavone vi abitano dei poveri solo perché buttano una gran mole di cibo tra i rifiuti dimostra, dice Greco non solo di non avere consapevolezza della grave crisi economica ma cosa ancora più grave di disprezzare la povera gente. Forse, preso com'è dall'euforia di vivere un momento di apparente gloria in calza greco non si è reso conto che nemmeno il più acceso e volgare dei razzisti si sarebbe sognato di fare una così grave e simile affermazione. Vuole negare che ci sia crisi o vuole negare alle famiglie povere e bisognose il diritto di mangiare? Con queste simili affermazioni che Greco ritiene farne ticanti non si andrà sicuramente da nessuna parte. Con un'aggiunta di tale livello che nella migliore delle ipotesi non si rende conto di quello che dice e non ha la benché minima idea delle dipercussioni che certe incaute affermazioni possono provocare Gela rischia di sprofondare in un baratro da cui non sarà facile risalire. Giusto e opportuno l'intervento di Don Luigi Petralia parloco del quartiere Scavone ma sarebbe auspicabile visto il tema affrontato che intervenisse anche la politica chiamata proprio per svolgere questo compito. In un momento così grave non si può giocare a nascondino con il destino della città. Per Lucio Greco ci vogliono posizioni chiare e coraggiose. È prevista fino al 30 luglio prossimo presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela la presenza di un camper all'interno del quale sarà effettuata gratuitamente la mammografia a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Ci si potrà presentare anche senza specifico invito. L'esame infatti verrà effettuato ugualmente. Contemporaneamente sarà consegnato agli utenti il kit per eseguire lo screening al colon. L'iniziativa è dell'azienda sanitaria provinciale 2 di Caltanissetta che promuove l'importanza della prevenzione per tutte quelle patologie dalle quali si può guarire con una tempestiva diagnosi corretta. Ad accogliere le donne che si sottoporranno ai controlli ci saranno i volontari della Farc che affiancheranno gli operatori dell'ASPA. E adesso occupiamoci dell'intervento della Commissione Consiliare alla Salute e all'Ambiente sull'arsenico nei pozzi. C'è una totale assenza di pianificazione su temi che andrebbero affrontati in un certo modo e non a spot come usa fare l'amministrazione. Lo dice la Commissione Ambiente e Sanità preseduta dal consigliere comunale Virginia Farruggia. È stata indetta una riunione importante tra amministrazione ASP e ARPA sul problema sollevato da Emilio Giudice direttore della riserva del Biviere al Ministero dell'Ambiente della presenza dell'arsenico nelle acque di falda. La Commissione dice Farruggia aveva già incontrato l'ASP nella persona di Calogero Buttieri per discutere la situazione delicata dei pozzi di emungimento della piana di Gela e lo stesso Buttieri aveva confermato le analisi fatte dall'ARPA a nove pozzi a Campione e per i quali la Commissione aveva chiesto di poter avere i risultati. Ad oggi non è arrivato nessun dato alla Commissione così come i dati del monitoraggio acqua e aria chiesti in più occasioni alla Giunta. La Commissione continua a Virginia Farruggia non è stata invitata all'incontro ma soprattutto non viene messa in condizione di operare per i cittadini come sarebbe nelle sue mansioni. Riteniamo propagandistico fare un comunicato stampa sull'arsenico senza aver avuto l'interesse di pubblicare i risultati dell'ultimo monitoraggio ambientale proprio sul processo dell'arsenico realizzato dal CNR di Pisa quando poi si dedige un altro comunicato di allarme sulla contaminazione di uno dei pozzi sempre della piana ad uso agricolo. La Quinta Commissione chiede che venga immediatamente aperto un tavolo sull'arsenico e che si dia evidenza della presenza o meno del contaminante sul territorio e chiede di pubblicare i dati scientifici sulla speziazione dell'arsenico del CNR di Pisa alla presenza del professore Fabrizio Bianchi. Piuttosto che dare notizie allarmanti circa la contaminazione di un pozzo ad uso riguo nella piana si faccia una caratterizzazione seria della stessa così da pianificare azioni puntuali a seconda delle risultanze in questo modo si eviterà di devastare un settore già al collasso quell'agricolo e soprattutto si cercherebbe di contrastare un debito d'immagine che la città ha da sempre subito in cambio di una sicurezza economica che così sicura non si è rivelata. Speriamo dice la Commissione che la Giunta si metta dalla parte dei cittadini creando le condizioni ottimali affinché Gela possa ripartire economicamente prima di tutto attraverso le proprie risorse e non come sempre accaduto subendo le scelte dall'alto da parte di investitori esterni che poco avrebbero a che fare con l'interesse del territorio. Da ieri fino a domani presso la pubblica assistenza Procivis di Gela si svolge un corso di abilitazione per i nuovi soccorritori che verranno messi in campo su ambulanze della pubblica assistenza Procivis abilitate al servizio di emergenza ed urgenza sanitaria di eccedenza 118 in collaborazione con il Coresa e l'assessorato alla salute della regione siciliana e la centrale operativa 118 nello specifico i soccorritori al termine del corso e degli esami previsti potranno intervenire in caso di emergenza sanitaria svolgendo determinate procedure o adibiti al trasporto di pazienti nei pronto soccorso degli ospedali secondo i protocolli stabiliti dalle autorità sanitarie competenti la corte d'assise di Caltanissetta ha condannato all'ergastolo 4 dei 5 imputati del nuovo processo per la strage di Capaci in cui vennero uccisi i magistrati Giovanni Falcone Francesca Morvillo e gli agenti della polizia di stato Vito Schifani Rocco Di Cillo Antonio Montinaro il 23 maggio del 92 carcere a vita per i mafiosi Salvo Madonia a Giorgio Pizzo Cosimo Lonigro e Lorenzo Di Nirello così come era stato chiesto dai PM della procura nissena assolto invece Vittorio Tutino che comunque resterà in carcere perché sta ascoltando altri reati e mentre un processo bis si conclude si prospetta già un ter che ha come indagato l'imprendibile Matteo Messina Denaro il boss trapanese condannato all'ergastolo per le stragi del 93 di Roma Milano e Firenze proprio dal 93 Messina Denaro e Latitante di recente i pubblici ministeri di Caltanistetta hanno chiesto e ottenuto una nuova ordinanza di custodia per il padrino trapanese che è accusato di aver avuto un ruolo non solo nella strage di Capaci ma anche in quello in Via D'Amelio continueremo le indagini per cercare la verità sulle stragi ha detto il procuratore aggiunto Elia Sava al termine della requisitoria del processo di Capaci bis esposta assieme all'aggiunto Gabriele Pace sostituti Stefano Luciani Nelio Dodero ne abbiamo un obbligo giuridico e morale perché siamo consapevoli che nel procedimento concluso e in quello ancora aperto non può esserci tutto dunque una nuova intaggine è possibile sulle coincidenze di ambienti esterni a Cosa Nostra all'avvio di questa fase stragista anche se hanno precisato i PM in requisitoria ogni elemento raccolto fino ad oggi in questo senso non è da considerare né esaustivo né sufficiente nell'ambito del processo formativo anche tu puoi salvare una vita l'organizzazione di volontariato giubilitaria coordinata da Orazio Coccomini organizza un corso di formazione come esecutore di BLSD l'iniziativa si svolgerà sabato 30 luglio con inizio alle 9 presso l'aula formazione della sede operativa di via Falcone in contrada a Brucazzi il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per domani gli interessati per informazioni ed iscrizioni possono contattare gli uffici al numero telefonico 0933 91 44 19 c'è anche un indirizzo di posta elettronica giubbeditalia gela chiocciola hotmail.com e anche la pagina facebook giubbeditalia gela proseguono le iniziative inserite nel cartellone l'estate gelese con la musica colta promossa dalla associazione amici della musica navarra di gela col patrocinio del comune domenica 31 luglio alle 21 e 15 nell'ex monastero delle benedittine è previsto il concerto ridico del trio Angela Curiale soprano Francesco Cusumano tenore e Giovanni raddino pianoforte ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità seconda parte del telegiornale Suor Angelica e Gianni Schicchi sono le due opere liriche di Giacomo Puccini portate in scena ieri sera al teatro Eschilo di Gela dalla Mediterranean Opera Studio di Filadelfia gli artisti internazionali già la scorsa estate erano stati nella città del golfo ripromettendosi quest'anno di interpretare uno spettacolo completo così come è stato ieri sera tra il pubblico hanno apprezzato la performanza di tenori soprani e dell'orchestra il sindaco domenico messinese è gran parte della giunta comunale sentiamo una serata particolare una serata sicuramente non consueta per le nostre zone ma che in realtà riporta l'antica arte il canto il bel canto del nostro teatro qui al teatro Eschilo devo dire che sono venuti a trovarci dei cantanti di primordine vengono da tutto il mondo con l'orchestra dal vivo una serata molto particolare è cominciato l'estate a Gela si è andata il via a tutte le manifestazioni che continueranno per tutto il mese oltre al mese di luglio ma anche agosto e settembre siamo molto contenti di avere portato queste due opere bellissime Gianni Schicchi sul Angelica alla città di Gela è stata un'esperienza piena di entusiasmo i ragazzi erano carichi di questa emozione che porta questa musica e siamo contenti che il pubblico l'ha gradito i pubblici di Gela come i pubblici siciliani hanno una tradizione grandissima per quanto riguarda l'opera siamo contenti di riportare ancora questo nostro patrimonio alle città della Sicilia abbiamo sempre trovato molto caloroso il pubblico di Gela anche l'anno scorso quando siamo venuti ci siamo promessi che avremmo portato un'opera intera orchestra, scene e ci siamo riusciti siamo contenti della collaborazione del comune intraprendere questo tipo di arte richiede tantissimo studio molto accurato sia di musica che di lingua da cultura italiana e quindi ecco perché portiamo anche i ragazzi che vengono alla nostra master in Italia così possono essere immersi in questa cultura perfezionare la lingua e capire un po' di più da dove è nata l'opera proseguono gli appuntamenti con Teatro Sotto le Stelle all'arena all'aperto dell'antitodo di Machidella a Gela venerdì 29 luglio alle 21.30 la compagnia teatrale La Svolta porterà in scena il marito di mio figlio il costo del biglietto è di 5 euro a coppia sabato 30 luglio sempre alle 21.30 salirà sul palco Giobbe Covatta in questo caso il biglietto costerà 10 euro ricordiamo che ci sono ancora numerosi posti disponibili primo trofeo odistico Ivan Siciliano si terrà domenica 31 luglio a Marina di Acate l'iniziativa è della associazione contro le stragi del sabato sera presieduta da Salvatore Siciliano in collaborazione con l'atletica Padua Ragusa e l'atletica Mazzarino la gara che avrà inizio alle 17.30 è valevole come undicesima prova del Grand Prix Provinciale Senior Master le iscrizioni possono essere effettuate entro oggi all'indirizzo mail sicilia chiocciola maizam.it all'età di 70 anni tornerà ancora una volta a colpi di bracciata ad attraversare lo stretto di Messina per sostenere la donazione del sanque e lanciare un messaggio di solidarietà donare e vita parliamo del Nisseno nello Ambra che domenica prossima 31 luglio parteciperà all'attraversata della solidarietà promossa dalla FIDAS nazionale giunta alla decima edizione che vedrà raccolta donatori di sanque provenienti da tutta l'Italia per sfidare le acque dello stretto una staffetta in un tratto di mare di circa 3,5 km tra Punta Faro Messina e Cannitello Reggio Calabria per ricordare l'importanza di un gesto responsabile anonimo e volontario a favore dei tanti pazienti che necessitano di terapie trasfusionali un'esperienza non nuova per Ambra ex presidente del Panathlon amante dello sport che sinora ha partecipato a tutte le edizioni oltre ad aver effettuato altre 4 traversate da Malta a Gozzo Salina Lipari Ponza a Palmarola Favignana a Levanzo con un solo obiettivo incentivare le donazioni del sangue tra intanto chiarisco subito una cosa importante che non è una competizione ma sicuramente una gara una gara di solidarietà e come diceva lei la facciamo da 10 anni a livello nazionale sono una cinquantina di soci donatori di tutta Italia dal vento alla Sicilia che faranno al faremo questa attraversata diciamo asile libero insomma come uno sa fare e sarà una staffetta per mettere in condizione e incoraggiare coloro i quali non sono in grado di poter fare tutti i 3.300 metri quindi la finalità è questa la FIDAS l'associazione del dono di sangue lo fa questo perché in Italia manca il sangue e nella nostra area particolarmente a Caltanissetta ahimè siamo in emergenza e noi riusciamo ad avere appena il 70% del fabbisogno quindi noi dovremmo perlomeno avere 20 sacchi al giorno di sangue ne abbiamo 10-12 e purtroppo i talassemici ogni 15-20 giorni hanno bisogno 3 sacchi di sangue quindi quasi un litro e mezzo di sangue il talassemico se non ha il sangue muore quindi io faccio un appello alla città alle persone sensibili alle persone che hanno la fortuna di star bene di donare il sangue prima di partire si dona tutti i giorni in viale della regione di fronte al capo sportivo Palmintelli dalle 8 e mezza alle 11 e mezzo posso donare tutte le persone che hanno l'età dai 18 ai 65 anni donare il sangue fa bene perché i globuli rossi si rigerano poi noi facciamo delle analisi preventive e quindi per donare già sappiamo come stiamo perché spesso magari abbiamo delle malattie silenti non so il colesterolo e la glicemia la pressione alta e così siamo in grado di sapere anche questo e quindi un invito che faccio a tutti il volley Machitella Gela si prepara a scendere in sabbia con un torneo di beach volley 4x4 in notturna in attrazione femminile 12 squadre coinvolte 48 atlete del panorama gelese si sfideranno per contendersi il primo posto di un torneo che vedrà la partecipazione femminile assestarsi al 50% delle presenze l'iniziativa si trarrà nei giorni 1, 2 e 3 agosto presso il Lido Bicull Beach abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti Grazie a tutti